Ancora poche ore, poi si concretizzerà la pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI circa il format della Serie B e, in caso di allargamento del numero delle squadre, su quali saranno le compagini ripescate. Ieri si è temuto un ulteriore slittamento, visto l'impegno del Presidente del Collegio, Franco Frattini, in visita diplomatica in Moldavia come rappresentante dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Sollecitato sui social sempre ieri, Frattini ha trovato modo per chiarire attraverso un tweet postato poco dopo le ore 18 che non ci sarebbe stato alcuno slittamento e dentro la serata di questo martedì arriverà dunque la sentenza che tiene tanti club e tifosi col fiato sospeso. La Serie B resterà a 19 o tornerà a 22, ipotesi quest'ultima che, secondo alcuni rumors, sembra avere le principali possibilità. Qualcuno ventila anche una cadeteria con 24 squadre. In caso di allargamento, Siena, Ternana, Catania, Provercelli e Novara confidano di essere tra le ripescate. Il verdetto sarà definitivo da un punto di vista sportivo, poiché eventuali società scontente potranno rivolgersi al TAR ma solo per ottenere un eventuale risarcimento, visto che i campionati saranno in pieno svolgimento. Anche il Pescara tende di conoscere l'esito con il Presidente Daniele Sebastiani che ieri sera nel corso del collegamento con la trasmissione replay di Enrico Rocchi ha ribadito la contrarietà all'allargamento. Dopotutto, l'Assemblea di Lega, all'unanimità, aveva votato per il blocco dei ripescaggi. La B a 19 squadre garantisce maggiore sostenibilità con una ripartizione più cospicua delle risorse finanziarie. Sul fronte squadra, oggi doppia seduta per il Delfino, ieri il tecnico Pillon ha riavuto gli under 20 Capone e Melegoni, entro domani torneranno Memushai, ieri sconfitto con la sua Albania dalla Scozia, e Castrati impegnato nel tardo pomeriggio con l'Albania Under 21 contro i Parietà dell'Italia a Cagliari. Per Brescia saranno a disposizione Fiorillo e Canutè che hanno superato i rispettivi acciacchi e Marras che ha scontato la giornata di squalifica. Assenze certe di Balzano e Palazzi, probabile quella di Crecco, alle prese con una distorsione ad una caviglia. Ieri stop anzitempo anche per il giovane terzino Scalera.